Musica Allora cari amici in visione e in ascolto ben ritrovati e ben ritrovati più che con me con Franco Vassallo in realtà Marchese di Posa, Rodrigo in questo allestimento del Don Carlo di Giuseppe Verdi qui del Carlo Felice grazie per essere venuto ma grazie a voi in apnea l'ho detto questa tutta una allora Rodrigo dicevamo prima a microfoni spenti che effettivamente forse è il ruolo più impegnato non so se è più impegnativo ma è quello che canta davvero di più sì è assolutamente vero diciamo che è un'opera questa dove non ci sono dei non protagonisti tutti i sei personaggi principali sono quasi equivalenti però Rodrigo effettivamente da un punto di vista di tempo in cui è presente in scena di romanzo a tre aree due grandi duetti dei terzetti se la vede un po' con tutti se la vede un po' con tutti è il tre d'union era così anche in Schiller diciamo perché è un personaggio inventato da Schiller questo di Rodrigo diciamo che è un personaggio assolutamente immaginario nel senso che nella corte di un Filippo II diciamo che quelli storici sono la famiglia di Carlo V un po' andata a male come famiglia è quella questo è stato messo però immaginario sia storicamente sia perché era assolutamente impossibile che un personaggio del genere potesse sopravvivere in un contesto simile in un contesto simile effettivamente e in realtà invece a Verdi piace effettivamente tanto perché è quello che serve qui è la fiera dei topos verdiani il rapporto padre figlio il potere contro l'uomo comune il tema dell'amicizia che fra l'altro del primo duetto praticamente di Rodrigo e Carlo ne fa il leitmotiv di tutta l'opera un po' di tutta l'opera lì è emozionante quel duetto è uno dei più belli Dio che ne andrà mai infondere questa grande amicizia quest'intesa ideale politica perché poi Rodrigo è un personaggio idealista ed ideale anche in questo cioè è come dicevo prima impossibile che possa essere vissuto in quel contesto ma anche in una corte non so più avanzata la più avanzata dell'epoca come poteva essere quella di Elisabetta I in Inghilterra era ante l'iteram non c'era ancora questo concetto della libertà dei popoli di lavorare nelle fiandre di tentare di fare questo però è questo che forse lo rende così così bello perché è un personaggio idealizzato sicuramente tanto che Filippo II quando si trova a dover cambiare cioè la vita del figlio la dava abbastanza facilmente quando si trova a dover a dover cedere all'inquisitore anche Rodrigo ci rimane molto male ma infatti si è creata una molto bella intesa con il regista Cesare Lievi ed è anche una sua chiave interpretativa di questa edizione di Don Carlo l'idea che Filippo veda in Rodrigo il figlio che non ha avuto e che avrebbe voluto avere effettivamente sì è una cosa che ci sta molto bene sì ci sta e si sospetta comunque anche dal libretto effettivamente poi c'è tutta questa serie di rapporti la gelosia ma poi tappate figlio perché c'è Elisabetta in Elisabetta e Eboli certo Eboli poi che è la cortigiana proprio quella che lavora al contrario beh la trama nasceva come grand'opera ci manca solo il balletto diciamo comunque è molto lunga è molto impegnativa anche così in quattro atti questa è una versione di Milano cosiddetta in italiano giustamente vocalmente offre trappole insidie vocalmente è una parte molto completa una delle più belle che Verdi ha scritto per la voce di Baritono l'ha fatta tante volte l'ho fatta diverse volte sì lei è di quelli che le conta le volte oppure dice più o meno perché ho visto che ci sono quelli che dovrei contarle però la signora Casola ha detto il Tosco lo fa 597 volte ho detto salubili vuol dire che le conta lei non le conta non si è mai messo dovrei mettermi lì ho ancora tutti i vecchi programmi per cui potrei farlo no no ma un giorno lo farò Nucci Leonucci mi ha detto io non ho mai contato niente eppure ne avrebbe da contare voglio dire quindi no lei non le conta però l'ha già fatto è un ruolo che ha già fatto sì sì diverse volte con soddisfazione con grandissima soddisfazione perché di solito il baritono interpreta il ruolo del cattivo è abbastanza dell'antagonista in questo caso un personaggio così idealizzato ci sono dei tratti comuni ne parlavamo per l'inaugurazione del 2015 con Simon Boccanegra dei tratti che lo accomunano a Simon Boccanegra proprio come figura idealizzata e di alti intenti ecco è un personaggio che ha alti intenti e quindi la musica segue questa ovviamente questo tratto del carattere e Verdi ci dà una musica elegantissima diciamo che Rodrigo è un po' la prosecuzione del cosiddetto baritono Grand Seigneur che già Verdi aveva affrontato nell'Ernani il Re Carlo e che affonda le sue radici in Donizetti pensiamo all'Alfonso della Favorita per esempio in fondo cioè poi Donizetti era subito prima Verdi e gli hanno aperto decisamente la strada beh a parte un po' un peccato essere esclusi da quell'orgia di bassi che c'è in inizio terzo atto da Sonio dinanzi al Re prima ancora effettivamente lì godono molto i bassi in quella zona lì con Valerio Galli aveva mai lavorato? è la prima volta? beh lui credo che sia esordiente nell'opera Valerio sì è un puciniano fra l'altro è un puciniano cominciasse un verde atipico effettivamente l'intesa è stata molto bella perfetto perché poi l'opera è sempre questa nave con due comandanti il regista e il direttore d'orchestra c'è da sperare poi che tutto vada bene va bene va bene noi siamo veramente contenti intanto sempre di raperla qua è stata grazie a te non è la prima volta e non sarà l'ultima sicuramente in bocca al lupo sa va a sandir la firma della locandina la cerimonia della firma della locandina dove vuole anche sulla zona rossa di solito è l'ultimo che firma sul tavolo perfetto grazie mille alla prossima grazie a lei arrivederci